Leggiamo insieme dal Vangelo di Marco capitolo 12 e dal verso 28. Uno degli iscrivi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso, non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Lo scribba gli disse, bene maestro, tu hai detto secondo verità, che vi è un solo Dio e che all'infuori di Lui non ce n'è alcun altro e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e sacrifici? Gesù, vedendo che egli aveva risposto con intelligenza, gli disse tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo. A me è fin qui la parola del Signore, tu non sei lontano dal regno di Dio. È una frase bella, incoraggiante soprattutto perché è detta da Gesù, ma è una frase ovviamente dalla doppia lettura come una medaglia a due facce. Certo, tu non sei lontano, sei vicino, ma non sei ancora dentro il regno di Dio. C'è un incoraggiamento ma viene posta anche la consapevolezza che manca quel passo per essere al sicuro nell'avere la vita eterna. E certamente buone cose, buone intenzioni, una certa conoscenza, buone qualità come poteva avere quest'uomo, forse anche un giovane, hanno del valore davanti a Dio, aiutano nell'esperienza religiosa ma non bastano se non c'è questo passo definitivo, questo passo vitale. Quest'uomo manifesta un sincero interesse. Abbiamo letto al verso 28 che egli si avvicinò a Gesù per porgergli questa domanda. Quest'uomo si avvicina e si avvicina non per curiosità, non per cercare di carpire a Gesù delle parole in modo da poterla accusare. Non era un tranello, per così dire, di logica religiosa. Gesù fu tante volte anche colpito in questo modo. Sempre Marco in questo capitolo al verso 13, per esempio, scrive, gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo con una domanda. Gli mandavano le persone. Quest'uomo non è mandato da altri, si avvicina a Gesù con i suoi piedi, cioè è mosso da qualcosa di intimo, di interiore, da un bisogno, da un sincero interesse. Egli nota che l'insegnamento di Gesù è sano, è vero, è ortodosso, noi diremmo oggi. E quindi chiede quale sia il comandamento più importante, perché è ben disposto a onorare Dio e certamente fino a questo tempo doveva fare diverse cose per sentirsi a posto con il Signore praticare tante cose, ma i conti non tornavano. Dentro c'era qualcosa che mancava. Faceva tante cose, anche con buona disposizione. Ciò doveva dargli sicurezza, certezza, gioia. E invece quando si accostava a Dio mancava qualcosa, si sentiva ancora separato da Dio, forse più vicino di altri, ma non abbastanza vicino al Signore per dire sarò con Lui per tutta l'eternità. Un momento praticava qualcosa e si sentiva al settimo cielo, forse il giorno dopo, l'istante dopo, con alcune esperienze, con alcune notizie, come capita a persone religiose, si sentiva improvvisamente lontano anni luce da Dio e dalla certezza della vita eterna. Non basta sforzarsi di mettere in pratica la legge, abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno di un Redentore, abbiamo bisogno di qualcuno che ci metta a posto davanti a Dio, non per quello che noi facciamo, ma per quello che solo Lui è in grado di compiere. Ecco perché quest'uomo è sempre lontano. Prima che a fare, a praticare qualcosa, come tutti noi, è chiamato a credere. Cosa dobbiamo fare, dicevano le persone ai primi Apostoli? Credete in Gesù. Questa è la prima cosa. Prima che a fare, devi credere che hai bisogno di un Messia in modo di confessare il tuo peccato e ricevere il Redentore nella tua vita, Gesù, come personale Salvatore. Credere nell'Evangelo ci porta a confessare il peccato, cioè ci porta a quel ravvedimento che poi introduce nel Regno di Dio. È semplice, è un passo dopo l'altro, ma se guardiamo solo a quello che noi dobbiamo fare e dimentichiamo l'opera di Cristo, non basterà mai. Gesù come iniziò a predicare il Vangelo? Parlando di teorie strane, parlando così di una rivoluzione, di una così libertà dalla dominazione romana, noi iniziò a predicare l'Evangelo dicendo, ravvedetevi e credete all'Evangelo perché il Regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio si è avvicinato a voi, il Regno di Dio è presso di voi, davanti a voi, ma dovete credere, ravvedervi perché il passo del ravvedimento introduce nel Regno di Dio. Gesù ha lasciato la gloria, ne ha fatto di passi per venire in mezzo a noi, ci è venuto incontro, come oltre non si poteva fare, ma il passo del ravvedimento è il mio, è il tuo. Egli non si ravvede al nostro posto, egli è puro, perfetto. Ed ecco che dobbiamo capire questo quando ci riconosciamo mancanti e peccatori davanti a Dio. L'interesse, come quello di quest'uomo, può essere profondo, sincero, ma forse non c'è questo interesse primario per il bisogno della redenzione, così è volto ad accertare quella che deve essere la nostra parte fino in fondo, ma non si riconosce, non si realizza ciò che Cristo ha compiuto, l'insostituibile opera di Cristo crocifisso. Allora, al di là di quanto ciascuno di noi si possa avvicinare, non facendo questo, impegnandosi in quest'altro a livello sociale, morale, religioso, conta quello che Cristo ha compiuto per noi. Scrive l'Apostolo Paolo agli Efesini e dice voi siete stati avvicinati a Dio mediante il sangue di Cristo Gesù. Non dice che noi ci siamo avvicinati a Dio, siamo troppo peccatori. Non dice che lì Dio tre volte santo si è avvicinato a noi. Dice che in Cristo Gesù noi siamo stati avvicinati a Dio. Siamo stati messi nella condizione, Dio ci è stato reso propizio per entrare nel suo favore, nella sua grazia e restare con lui. Oh, per tutta l'eternità. Oh, si evidenzia questa assoluta separazione da Dio per farci capire che non servono tante buone intenzioni, dei viaggi in terra santa, delle esperienze mistiche, fare questo, fare quell'altro. Bisogna accettare Gesù. Ecco quello che manca a quest'uomo perché altrimenti tanti sacrifici e tante cose ci lasceranno sempre fuori, nelle tenebre di fuori rispetto al regno di Dio. Ecco perché Dio ha mandato il suo unigenito figliolo come soluzione per il nostro stato di peccatori separati da Dio. Ma vedete, quest'uomo manifesta anche di condividere le parole di Cristo. al verso 32 dice, dice sinceramente, bene maestro, hai detto bene, hai detto secondo verità, ha capito e condivide quello che Gesù dice, lo condivide sinceramente, ma non basta. Quante persone hanno capito tante affermazioni di Gesù e in linea di massima le condividono, le approvano mentalmente. Sono pronti così ad appoggiare dal loro punto di vista certe affermazioni, certi principi posti da Gesù, ma non si convertono mai pienamente al Signore. Sapete, c'è differenza tra appoggiare qualche affermazione di Gesù e invece appoggiare interamente la nostra vita su tutta la parola di Dio. Questo dobbiamo fare. Non siamo noi che dobbiamo approvare il Signore, ma è Egli che deve approvare e benedire la nostra vita, salvandoci col suo perfetto sacrificio. Quanti ce n'è che non dicono male di Gesù, se non altro che l'educazione si guardano bene dal bestemmiare il Signore, ma neanche lo adorano, non lo insultano palesemente, ma neanche così lo esaltano. Alcuni hanno un certo rispetto, come quest'uomo lo chiama maestro, ma il loro problema è che amano qualcun altro, qualcos'altro, ben più che il Signore. No, dice Gesù, devi amare Dio con tutto l'essere tuo, altrimenti non è un amore che ti può legare con l'amore del Signore. Gesù ha dato tutto per noi e non può volere che tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita. Quest'uomo quindi è convinto, come tanti sono convinti, ma non è convertito. Appoggia, condivide, ma non mette la propria vita nelle mani di Dio. Quanti ce n'è? Migliaia condividono molte delle verità bibliche, ma non vi fondano sopra la propria vita. È vero, però. Così ancora, vedete Gesù al verso 34, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli parla in questa maniera. Gesù stesso vede che ha risposto con intelligenza. Quest'uomo non solo ha un sincero interesse, ma anche una conoscenza esatta della parola di Dio. Eppure non basta, non basta conoscere una parte della scrittura, conoscerla abbastanza per introdurci nel regno di Dio. Non basta un'adesione mentale, insegnare così dei principi cristiani a dei bambini. È buono, è sano, ma non li introduce nel regno di Dio. Non è un'educazione cristiana che fa delle persone delle nuove creature, ma solo il sacrificio di Cristo. Quando ci si rabbede dai propri peccati o il fare determinate pratiche, la vera istruzione religiosa, può coincidere così con un'esistenza sana, ma non coincide con la redenzione dell'anima, non nutrire, non coltivare questa illusione. Forse è una pia illusione, ma un'illusione mortale ai fini della vita eterna. È la differenza che separa l'essere così introdotti in una istruzione cristiana, in una forma cristiana, e l'essere invece introdotti nel regno di Dio, è la differenza che c'è tra la vita e la morte eterna. Signore, rivelati nella mia vita, ma fai in modo che io sia salvato, perdonato, cambiato, redento. Sia questa la tua preghiera, lì dove sei, nel profondo del tuo cuore. Cosa può trasformare delle buone intenzioni, una conoscenza teorica, una sana disposizione religiosa, nella realtà spirituale, della conversione, della nuova nascita, del vivere alla presenza di Dio? Soltanto la fede nel perfetto sacrificio di Cristo Gesù. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E cosa accade? Che siamo introdotti per la fede in Cristo abbiamo accesso alla grazia nella quale vogliamo restare fermi. È lì il punto di accesso. Tutte le altre cose forse ci fanno muovere qualche passo, forse moralmente ci fanno superare altri, ma non ci aprono la porta. È lì l'accesso alla grazia di Dio, nell'essere giustificati per fede in Cristo Gesù. È lì nel credere che Cristo è risorto nella testimonianza che il Padre ha reso al proprio Figlio, che è maggiore della testimonianza umana. È lì il giro di volta, perché chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio non vedrà la vita e l'ira di Dio resta sopra di lui. Ecco la differenza tra chi è dentro e tra chi è fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.